Musica Ah c'è già di prima Però ora l'ho preparato Ma no, è uno solo Allora la nata è sempre sembrata Bisogna rossarci le rossi Non ce ne passano Passare sparando Subito Coprito regà Sì Gli altri avanzano sotto e bassi Basta che ci tirate voi Ragazzi davanti com'è la situazione? Sono tutti morti? Sei Sei? Perché ci sono stati entrati al lato sinistro Qua a destra quanti ci stanno? Da laggiù vedi, è al lato opposto Già ce l'ho un altro Ok allora Ci stanno altri due da lato Capite dall'altra parte A sinistra infatti ci stanno imbucando Quindi fate attenzione Oips Si è scoperto là Buttati un po' dietro Vai dietro per direttamente la bandiera Qua è perfetto Ah qua è perfetto Qua è perfetto Occhio le porte della sinistra Ok? Anche la sinistra Deve fare attenzione Quanti video ai nostri c'è stanno qua? Non si sa No Sono nemici Torna dentro Torna dentro Ci stanno nemici dall'altra parte Vai Cazzo ma ti togli la maschera Via qua Via qua Sbriga Anzi no no Levate da là Trova la copertura Metti una barriera di fronte Te via qua Vai ti stringo la maschera Corri 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 Vai nel fortino Te la stringo là Le hai perfetto Rimani là Occhio a sinistra però Vieni vieni Brevi raffiche ragazzi Vieni Vieni Maschera L'altro Metti sempre la maschera Abbassate L'altra parte Larguissima Oh ma la raffica si usa? Non mi è sempre stata poi Breve raffica Meglio Ok grande Ok grande Meglio Ok grande Sei rimasto vivo? Ma che fermi un attimo? Perciò Sparate e già fanno il giro delle foglie ma che era questo insieme a voi? come un po' di qua questo è un bel vai Marco vai Marco vai Marco orna lì fatti sfondare lascia ce n'è qualcuno vai bravo uno dei nostri lì aspetta eh prendi l'autopostazione vai vai regà avanziamo avanziamo si sono culati la roba o l'hanno pulito ghost squadra ghost potete fare su e giù e qua passando di qua ok dai cercate di stare appresso a lui e così andate su e giù e ci copriamo a vicenda tanto da fuori siete coperti dalla squadra del bosco di qua vi copriamo di noi ma te sempre gli alleati ti sparano? sempre gli alleati ti sparano pure nell'altro video che hai fatto? non sai da due canno treco no non è che stai a spara a te ma è che stai a spara a te ma è stato a spara a te è che sei a te io non ho mai sparato a te ma è stato uno dei vestiti di nero ma non so io stavo dentro ma non stavo venendo solo oh è l'altra squadra sono i nostri quelli qualcuno ha noto oh visore visore vanno da un'occhiata qua sotto guarda se c'è qualcuno contatto di sotto contatto di sotto attenzione contatto di sotto copi qua non fallo uscire vai all'angolo laggiù vai 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 attenzione ci stanno gente di sotto è dai e della mano a quelli vestiti di grigio e della mano aspetta vai vai preso 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 grazie attenzione come camminate 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 Sì, sì, sì. 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 5, 4, 3, 2, 1... Ok, ora la porta? Ok, ora la porta? Ok. Ok, ora la porta? 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 siete dei geni no perché fa quando arrivi sopra se trovi qualcuno nulla nulla quello che la pistola è rimasto la zona è libera tutti alleati qua è tutto No, l'ho già provato. Ma io ho detto guarda se ne pochi in difesa, no, non fa niente, non fa niente. Ma io ho detto guarda sono troppi. Qualcuno rimanesse qua. Mi stanno bloccando, mi stanno bloccando. La gamba è una a destra. Non faccia la porta. E' ingegno, cazzo. A presto, non lo vio, non lo vio, non lo vio dentro, regà. Buttate la piaccia che c'è la mia donna. Stanno là, stanno là, stanno là. Stanno là, stanno là. Stanno là, stanno là. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.